eri ciao allora non so quando pubblicherò questo video un attimo solo salve allora non so quando pubblicherò questo video perchè in realtà ho appena pubblicato il mi preparo con voi per cui non so quando lo pubblicherò però non fa niente nel senso, non ha nessunissima importanza oggi sono andata a fare la spesa e ho preso alcune cose in particolare volevo farvi vedere tre cose che ho preso nuove o meglio due cose nuove e una no nel frattempo ecco allora dicevo io disinfetto sempre la sigaretta elettronica quando torno da casa perchè dicevo sono stata in questo ipermercato sotto casa mia praticamente perchè è vicinissimo da me e e ho visto che c'erano gli sconti su alcuni trucchi ovviamente io normalmente non compro non compro trucchi di note marche da supermercato diciamo perchè sto sempre attenta un po' all'inci anche se ultimamente sto utilizzando alcuni per esempio le tinte labbra che in realtà io sono sempre stata talebana per quanto riguarda talebana sempre tre virgolette non vorrei che qualcuno mi venisse ad arrestare perchè dico che sono talebana nel senso che sono un estremista del bio per determinate cose e non per tutto come ho sempre detto per quanto riguarda i trucchi io non voglio dire non mi trucco ogni giorno nel senso che mi trucco se devo uscire se non devo uscire non mi trucco non ha molto senso quindi sono talebana per quanto riguarda la base viso per esempio la BB cream o il che sia il fondotinta il correttore e quelle cose che vanno a contatto con il viso quindi quelle cose che possono creare come doni e varie sono meno talebana per quanto riguarda gli occhi quindi l'ombretto e il rossetto perchè fondamentalmente essendo tinte labbra stanno lì non si muovono non me le mangio quindi non mi succede assolutamente nulla dicevo sono stata al supermercato e ho visto che è uscito questo nuovo Rimmel della Rimmel London appunto ho notato che la Rimmel London si sta sforzando di migliorare l'inci dei loro prodotti sarà anche perchè molte persone sono molto più attenti all'inci ai prodotti agli ingredienti e ho notato che questo qui non è male non ha siliconi non ha parabeni non ha oli minerali è discreto addirittura contiene c'è la carnauba contiene olio di argan contiene tante cose buone che possono essere utilizzate tranquillamente io ho fatto una ricerca ho controllato l'inci non è male questo qui è quello nuovo che si scioglie facilmente con le soluzioni da strucco quindi struccante bifasico salviettine o che sia il detergente perchè il problema dei mascara waterproof è che quando tu ti vai struccare quello rimane lì e l'indomani c'hai tutte le macchie nere io non sopporto gli struccanti i mascara waterproof perchè si durano tutto quello che vuoi resistono pure al pianto di non so cosa però quando vai a struccarti sti cosi rimangono lì e non li rimuovi nemmeno con le bombe quindi mi rompe le palle e allora questo qui fanno questa pubblicità e voglio vedere voglio provarlo non lo apro perchè voglio aprirlo insieme a voi non mi preparo con voi quindi questo qui è fatto a Londra quindi io non compro roba fatta in Cina o compagnia cantante poi ho preso come vi dicevo nel Get Red With Me ho preso la matita la matita nude questa è la numero 01 ed è della Deborah Milano Deborah Milano? yes Deborah Milano questa qua ovviamente l'inci quello che vuoi vabbè eccola qua vabbè c'è la carnauba c'è la candelilla insomma le solite cere è qualcosa scusate sempre se l'abbaio dai cani ma di voi di voi qua smettila lo picchio l'ultima cosa che ho preso allora ho notato queste strane queste strane salviette e salviette sentite a me queste strane pads struccanti della cotoneve sono al bacche di goji vitamina C qui dice che il 100% cotone biologico contengono questi due elementi che sono anti-age quindi sono curiosa di provarli proprio perché io utilizzo tantissimo le salviette le pads struccanti per con 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 l'acqua micellare o con lo struccante bifasico oppure con l'altro detergente quando non uso le salviette perché vado di corsa io di solito preferisco fare una cosa un po' più lunga di solito quando non crepo scusate sempre vivo di solito quando non crepo di sonno cioè quando sto per morire muoio di sonno che gli occhi mi si chiudono mi strucco con le salviette struccanti io non vado mai a letto truccata sia perché non sopporto che il trucco si trasferisca sulla fedela del cuscino perché poi per toglierlo l'inferno in terra però dico a prescindere non fa bene andare a letto truccati assolutamente quindi a meno che non sono cadavere morta ricoverata in ospedale io assolutamente mi devo struccare ogni ogni volta che vado a letto mi passo la salvietta struccante anche quando sono rimasta in casa tutto il giorno e non mi sono truccata perché la pelle accumula un sacco di impurità polvere durante tutta la giornata bene a breve farò un altro video forse anche addirittura dopo di questo cioè nel senso interrompo questo ne farò un altro sull'importanza di passare al bio perché non mi sono resa conto che non ne faccio da un po' quindi siccome ho un po' di tempo e sono truccata in modo decente non sembro una strega papera che sembro la sorella cattia di cenerentola sono truccata sono decente penso che farò un altro video sull'importanza di passare al bio e nel frattempo vi saluto al prossimo video ciao ciao